e vi diamo la destinazione di Maxi Lopez eh da domani sarà un attaccante del Milan quindi Maxi Lopez rimane in Italia e giocherà con la maglia rozzonera e avrà la possibilità una bella possibilità di eh poter eh respirare nuovamente l'aria della Champions League con il Milan perché anche se il Milan dovesse prendere Tevez o Tevez che dir si voglia non potrà giocare eh in Champions League perché ha giocato dieci minuti con il Manchester City e quindi Maxi Lopez eh dopo tre stagioni tre stagioni lascia Catania per una grande società per il Milan domani visite mediche sono notizie non ufficiali cioè che la società non ha ancora dato sono notizie che arrivano dalla redazione di Antenna Sicilia quindi di Sala Stampa Maxi Lopez è un calciatore del Milan e adesso spazio